Io amai quell'uomo, amai il Nazareno fino alla fine, cercai in tutti i modi di salvargli la vita. Se il mio nome è stato rastiato via dai racconti sulla vita dell'uomo, ciò non significa che non abbia avuto una parte importante, non soltanto nella sua morte, ma anche nella sua vita. Tra mille Nazareno vivi un'amicizia profonda. Se la diversità tra noi cresceva di giorno in giorno, restava anche una grande affinità e spiegava che mi legava a Lui profondamente. Grazie. 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 Grazie.